vi faccio vedere come ho dato il colore per il nostro bagno ho utilizzato il soffio di talco l'ho dato bene nelle fughe e poi l'ho dato sempre nello stesso verso in senso verticale abbiamo dato due mani e guardate che bella copertura poi ho carteggiato leggermente dopo aver carteggiato sono andata a fare la parte decorativa utilizzando il nostro rullo decorativo e utilizzando il colore ali di gabbiano il nostro colore a contrasto nella parte bassa della vasca ho fatto tutta la vasca piena mentre nella parte laterale ho fatto una riga sì e una riga no nella parte dove finiscono le piastrelle sono andata ad utilizzare un timbro a forma di pizzo e ho finito le nostre piastrelle con questo timbro a forma di pizzo infine ho sigillato tutto con la nostra finitura per cucina e bagni dando ben tre mani e seguendo sempre la parte verticale della pennellata guardate il risultato direi che è assolutamente eccezionale